Questa mattina in municipio a Schio il sindaco Walter Orsi e quello tienese Gian Antonio Michelusi hanno incontrato il dottor Eugenio Vomiero, dirigente del compartimento di polizia ferroviaria di Verona che ha competenza anche per l'area della provincia di Vicenza. Durante l'incontro Vomiero ha annunciato ai primi due cittadini l'installazione di un sistema di videosorveglianza e l'incremento della presenza degli agenti Polfer nelle stazioni di Schio e Tiene. All'incontro a Palazzo Garbin erano presenti anche il comandante dei carabinieri della stazione di Schio Gian Carlo Dascanio e il comandante del consorzio di polizia locale Alto Vicentino Giovanni Scarpellini. La Polfer opererà in stretta collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Siamo molto soddisfatti di quanto emerso durante l'incontro affermano Orsi e Michelusi come sappiamo dalle recenti cronna che nelle stazioni e lungo i collegamenti ferroviari si verificano diverse attività illecite come lo spaccio. Un sistema di videosorveglianza e presenza di agenti in divisa o in borghese permetteranno di intensificare i controlli, migliorare la sicurezza di queste aree sensibili e di conseguenza prevenire eventuali reati.